Un membro del clan necessita sopra la caduta del Campidoglio sarebbe un colpo gravissimo per i True Sons, ma la priorità è la valigetta che il presidente Ellis aveva sull'Air Force. Questo aspetta a bordo di un elicottero per recuperarla appena... Se Ellis ha detto il vero, fargliela riedere è possibile. I civili che potranno entrare nel perimetro e la volta dentro si trattano anche la vettura. Solo devo portare il rispetto e un bel po' di nemici davanti. E' un'automatico sparo alla seca. E' un'automatico sparo. E' arrivato il momento di entrare e finirla qui. Radio nemica intercettata Signore, delle cariche di prossimità sono esplose alla rotonda La valigetta è vicina, mi ricevi, Kelso? Forte e chiaro, resto in attesa Recuperata la valigetta, raggiungi il tetto della rotonda e attendi l'elicottero La batteria di mortali è ancora lì Ricevuto, perché l'elicottero si avvicini bisogna eliminarli Mal funzionamento del sistema Sistema attivato Generale, è probabile che la divisione abbia la valigetta Proveranno a portarla via, fatemi tutto per rallentarti Siamo al sicuro dal cielo delle amiche lezere Procediamo Prezzo Procediamo Arca fuori! Arca fuori! Basta! Affermativo! Fuoco sul bersaglio! Piccolo vicino! Non ascolto! No! 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 Il tetto sembra libero. Ricevuto. Attendo conferma. Bene. Quando ci sei, spara un razzo. Così portiamo la valigetta al sicuro. Questa è l'aria! Wow, che volta! Dobbiamo andarcene finché lo spazio aereo è libero. Ricevuto. Quella contraerea deve sparire. Il missile veniva dal lato est dell'edificio. Vedo due radar mobili sul front est. Guide dei terra aria. Eliminale. Così l'elicottero potrà atterrare. Ok, ti vedo. Stai arrivando a quei radar mobili. Fali fuori e leggiamo fine a questa storia. Sì. 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 Confermo, primo radar fuori uso. Ok, sistema il secondo. E' lontano quel bastardo! E' lontano quel bastardo! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti